Il festival è organizzato dall'Istituzione Concertistica delle Murge in collaborazione con il Teatro Mercadante ed è patrocinato dal Comune di Altamura. I nostri artisti ci porteranno in un viaggio in America attraverso le musiche, le sonorità e i linguaggi del nuovo mondo. La prima donna italiana ad essere risultata finalista al concorso Chopin di Varsavia. L'orchestra questa sera ci racconterà tante storie, in una in particolare verremo condotti anche dalla voce di un narratore. Grazie davvero a tutti voi per aver condiviso questo viaggio. Io vi do appuntamento al prossimo anno per la terza edizione del festival dell'Altamurgia. Grazie. 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 Grazie.